ripartiamo dalla voce il podcast della federazione italiana teatro amatori la magia delle voci io sono la quarta figlia ho tre sorelle e un padre che comunque ha vissuto bene questa cosa nessuno di noi si è mai drogata siamo state studentesse più che dignitose e i nostri fidanzati che transitavano in casa non avevano precedenti penali insomma non poteva lamentarsi più di tanto sono stato il suo ultimo tentativo io dovevo essere giorgio nome maschio virile ho indossato invece per 14 mesi soltanto completini blu e capelli sempre corti insomma non si voleva rendere all'evidenza da quarta femmina capirai che i tuoi diritti non esistono ci sono montagne di oggetti di giochi di bambole di vestiti che sono appartenuti alle tue sorelle sei già che fino a 18 anni non entrerai mai in un negozio mai mai mi chiamo andrea sì con la scusa che in germania il nome da donna mio padre si è voluto consolare così dai quando mi chiama lo fa pieni polmoni anche se sono a due metri di distanza andrea so giocare a pallone tifo inter e potrei stupirvi su quello che so in fatto di idraulica e non intendo quella vascolare ma sono una donna al 100 per cento e con un padre chiamato tutte e quattro come se fossimo state i quattro moschettieri certo ogni tanto lo vedo affiora a lui la mancata complicità adolescenziale i primi consigli su come sbottonare un reggiseno per esempio ma non ha mai smesso di volerci bene e molto saggiamente il primo lavoro fatto dopo la seconda figlia è stato quello di costruirci un bagno tutto per sé in questo momento mio padre sta vivendo una stagione della sua vita che oserei definire eccitante dopo aver vissuto in un mondo rosa io la sua quarta ed ultima impresa il suo tentativo di avere un complice in casa lo ha reso nonno e di chi ma di un maschietto mio marito che pensava di appoggiarsi al suocere in questa occasione ha dovuto arrangiarsi entrambi erano due zombie integrati con la carta da parati della sala d'attesa mia madre invece l'ha voluta con me i consigli vanno richiesti a coloro che conoscono le esperienze e dopo tre ore di urla di sudore è arrivato elia 4 kg 261 grammi e credetemi cari maschi arrivi a sentire fino all'ultimo grammo di quel peso che ti abbandona il mio compagno sembrava fare scampo si guardava intorno con questo piccolo tra le braccia come attendendo un premio di produzione ma era mio padre il vero fulcro un maschio lo guardava avidamente forse avrebbe fatto in tempo a vederlo giocare in serie a ma sapeva che era felice felice per la sua bambina che improvvisamente era così cresciuta ora gode il suo ruolo di nonno con una gioia immensa in fondo le tonnellate di cacca che produce sono giustamente io a gestirle e le notte in cui non dorme siamo noi a restare in piedi lui a quell'ora ronfa beato e poi arriva al mattino fresco comincia a spupazzarselo e quando deve mangiare lo ripassa a me è come avere un bimbo non legge ogni volta che lo desideri le donne hanno una capacità di sopportazione che ha del leggendario basti vedere la capacità attoriale degli uomini al primo cenno di dolore noi no facciamo figli voi vi tagliate un dito minimo minimo ci vuole il primario per potervi operare noi abbiamo le doglie un vostro banalissimo mal di testa nemmeno la decapitazione di maria antonietta può reggere il confronto noi partoriamo ci sono sette miliardi di persone nel mondo oggi i maschi sono circa due miliardi e mezzo le donne quattro miliardi e mezzo eppure gli stupratori gli assassini più efferati i pedofili i violentatori i politici più disonesti i dittatori più sanguinari sono tutti maschi dal primo all'ultimo esiste solo un sistema per evitare le varie guerre che vengono combattute in nome di dei che hanno sicuramente di meglio da fare guerre che nascono soltanto dal fatto che fa gola posare il culo per terra e pensare che sotto di te c'è un mare di petrolio esiste un solo modo una legge mondiale che affida il potere su tutti i ministeri della difesa del mondo ad una donna perché semplice nessuna donna manderebbe a morire i propri figli troppo amore per farli troppo amore per crescerli troppo dolore per perderli